Non è più un segreto, e passateci il gioco di parole, che il segreto sia il remida delle fiction e riesca a registrare ottimi ascolti su qualsiasi rete a qualunque ora. Per questo Mediaset non sa più dove trasmettere la soap spagnola con Pepe e Tristan. Ma come tutti gli idilli più felici, anche questo è destinato a terminare, almeno per uno dei protagonisti principali, e il finale di stagione si annuncia al cardiopalme ricchissimo di colpi di scena. Stando alle anticipazioni che circolano in rete, attenzione d'ora in poi ci sono molti spoiler, nella puntata che andrà in onda il 28 luglio prossimo, è proprio Juan a lasciare i fan della serie e morire tragicamente a causa di un colpo di pistola. A sparare non sarà il farmacista come molti potrebbero aspettarsi, ma Enricheta, che spinta da Olmo vuole liberarsi a tutti i costi di Soledad Castro. Juan Castagneda, il personaggio interpretato da Jonas Berami, tenterà in ogni modo di convincere la ragazza a non premere il grilletto, ma questa farà fuoco e l'uomo, per salvare la sua amata, si metterà in mezzo e verrà colpito a morte. Inutile infatti la corsa all'ospedale, Juan morirà, ma per fortuna non sarà un addio definitivo. Gli appassionati della telenovela infatti possono gioire, perché l'attore, che ha già dichiarato di prendersi una pausa nella seconda stagione, riapparirà di fatto nella terza, dopo un salto temporale di 16 anni, e si reincarnerà nei panni di Simone, un affascinante artista che farà perdere la testa a Soledad. Gli appassionati della testa a Soledad.